Ciao a tutti, in questo video ho deciso di fare il trucco di Angelina Jolie in questo nuovo film in cui interpreta Malefica. Ovviamente io non sono bella come lei, però ho cercato di fare un trucco il più possibile simile, un face painting anzi diciamo. E niente, se vi interessa seguite il tutorial. Ciao! Innanzitutto ho fatto il trucco occhi e ho preso questo viola, l'ho messo dalla piega in su, sfumandolo poi a spatolate. Poi lo sfumo meglio con questo pennello della Essence, poi con questo nero di Chicco faccio una specie di riga nella piega e lo sfumo. Un po' per dare profondità. Poi questa, in realtà è una cipria illuminante di neve, l'ho messa sulla palpebra mobile. Poi il bianco 169 di Chicco sotto l'arcata sopraccigliare. Un po' di nero matto anche sotto. Una riga di eyeliner, abbastanza sottile. Poi metto il mascara, questa è della NYC. Poi mi coloro il viso di bianco. In realtà è un bianco un po' sporco, che è mescolato con un ombretto verde che ho rotto, diciamo che ho reso in polvere, per mescolarlo e dargli un po' questo colorito così malato, ecco. Adesso in video non si vede benissimo, però non era bianco, ecco. Era un bianco tendente al verdognolo. Poi faccio i contorni, diciamo del copricapo, ecco, di Malefica e anche del contouring. Con dell'ombretto nero mescolato ad un marrone scuro. Poi vado a mettere più bianco sulle guance per fare sempre appunto dei punti luce per il contouring. Ora vado a fare del contouring anche nel naso, sempre con un ombretto nero e questo pennello che l'ho preso dai cinesi. Ora coloro di nero gli spazi, insomma, che avevo disegnato prima. Faccio un po' di ombreggiatura per farlo sembrare sopraelevato, insomma. Poi dopo aver messo un rossetto rosso, oltre i limiti delle mie labbra, vado un po' a perfezionare il contorno e a fare un'ombreggiatura sotto per dargli l'idea di, insomma, un po' più naturale. Questo è tutto, vi ringrazio e vi mando un bacio. Ciao! Ciao!